...funzionato e lo sai perché, in amore bisogna essere felice... Gigi Proietti è tornato ad Arezzo, ma questa volta in veste di produttore per lo spettacolo Non c'è due senza te, la divertente commedia musicale che ha debuttato mercoledì sera al Teatro Petrarca in prima nazionale e che tornerà in scena per la replica giovedì 3 marzo alle 21. Sulla ribalta retina per eccellenza, la figlia di Gigi Proietti, Carlotta, Marco Morandi, figlio sua volta di Gianni, Claudia Campagnola e Marteo Vacca, per la regia di Tony Fornari. La protagonista è Claudia Campagnola, una scrittrice con due mariti, il primo è il matematico e il secondo è il musicista, vive tre giorni con uno e tre giorni con l'altro, entrambi ignari della sua bigamia. Il segreto lo sa soltanto il personaggio interpretato da Carlotta Proietti, l'amica editrice. Sempre a lei svelerà un ulteriore segreto non di poco conto, quello di essere incinta. L'amore a quel marito io l'ho dato, Maria Teresa il tuo ragionamento lo so, non fa una piega ma ti voglio dire però, che se dividi in due l'amore l'uomo è risaluto, che non è soffocato ma è cornuto. L'amore ci sorprende ad ogni età, non conosce mai...